Allora, Carrara non ci arriva, mette il brivido a qualcuno, la palla schiezzata a Ciminari che prova un lancio, assist di testa, una parte sulla palla destra, la palla si infrange sulla rete esterna, deviazione, il tiro di Ciotty, la palla finita, il tiro di Ciotty sulla rete esterna, calcio d'angolo ancora, pericolosissimo, Ciotty sulla destra, un giocatore davvero ripreso qui alla mezza, lo scorso anno con un lungo infortunio, è stato fermo a Genzano nel campionato cadetto, calcio d'angolo, sinistro di Riccobono, primo palo, deviazione di Ragazzu, palla finisce sul fondo, è il ragazzo che è, Sergi che è colpito di tre,